Grazie a tutti La vita non è facile Nel mio silenzio resterò E finché il respiro non avrò Ti aspetterò Io sarò qui se tornerai Siamo in compagnia con Paolo Meriduzzi Che stasera ferrà questo suo concetto Per piastro Santino Calabro Primo in fatto con la Calabria Una provincia di Vigolenza Che te ne pare di questa terra? Ma guarda sono passato tantissime volte Ogni volta che passo Cerco di rimanere qualche giorno in più E farmi anche qualche giorno di mare Sono delle zone bellissime Non teme da rivedere In tante parti del mondo Come i Caraibi Cerco sempre di farci un po' di più E accogliere e prendere L'ospitalità della gente che è meravigliosa Sei in Calabria Il tuo tour che si è sviluppato Per un po' in tutta Italia Dove sei? Perché naturalmente ti seguono Puoi darci delle conti? Sono un tour fortunato Perché comunque ho lavorato tanto Sto lavorando ancora tanto quest'estate Quindi sul mio sito ci sono tutte le date Che ancora ci sono per agosto Oggine, agosto, settembre Sono un po' ovunque In molte zone del sud Iniziamo da Roma in giù Perché i spettacoli si sviluppano tutti qua Bene comunque Che fossero lavorati Che stanno bene E questo è molto bene Tu arrivi Se non sbaglio Da società del mondo Io sono di Lugano Suorizzo Perfetto Che rapporto c'è Tra il pubblico del sud E quello di un po' le differenze Ma sai Dipende Se si parla di fan I fan sono fan uguali Perché loro non si sentono Tutte le canzoni In generale sono uguali un po' dappertutto Si parla di musica È diverso Perché la musica È molto più sentita dai popoli Più calienti Più di sud Si appassionano di più Mi colpisce di più Quindi in generale Suonare comunque al sud Soprattutto nel concerto di piazza È una missione sicuramente diversa Che il nord Hai scritto tantissimi pezzi Ovviamente Cantante Qual è la canzone Che sei più legata A quella che ti rispetti Ma ce ne sono ovviamente Tutte Sono figli miei Quindi in realtà Sono molto affezionato Quella forse Che piace di più Anche alle persone A cui mi piace condividere È sicuramente musica Alla fine è la canzone Che Pippo Baudo Mi ha Mi ha dato l'opportunità Di cantare Al Festival di Sanremo Che non è mai successo Quindi Musica Poi l'ho cantata In quattro lingue diverse Mi accompagna anche In giro per il mondo Quindi È una canzone sicuramente speciale Stai parlando proprio Del Festival di Sanremo Cosa ne pensi Di questi time scout Che ormai Inglobano questi ragazzi Li impacchettano E poi li mandano Nel mondo della musica C'è invece gente Che si è costruita da solo Come canta un uomo Di un artista Cosa ne pensi Di fare in Sanremo Ma io penso Che sia bello Sia una grande possibilità Che ti dà la televisione Per emergere Soprattutto per gli interpreti Purtroppo c'è C'è poco spazio Per i cantautori Per le band E questo sicuramente Limita un po' Perché non è vero Che il talento È solo lì Non è solo nei talent C'è talento Anche nella composizione C'è talento appunto Di nuove band Che comunque propongono Anche nuovi suoni In Italia ci stiamo un po' Girando un po' Tutti i suoi stessi suoni Da 50 anni E sarebbe giusto Dare spazio A nuove band Che comunque portino Anche suono internazionale Simone e Tomasini Su questo punto Era un po' Diverso accordo Però chiaramente Certo Cosa ha detto Cosa ha detto Ha detto che Credo che gli artisti Devano essere In un modo diverso Rostruendosi un po' Da sole Perché è chiaro Che è un programma televisivo Fatto in dieci puntate In dieci puntate Non può formare l'artista Certo È chiaro che le voci Puoi avere una cosa È un internazionale Esatto Gli interpreti sono Interati Nel senso che Comunque grandi interpreti Della storia della musica Hanno avuto milioni E non gli ischi Anzi Una come Whitney Insomma ha fatto La storia della musica Piuttosto che Mariah Carey Quindi È giusto che ci siano Anche gli interpreti Le grandi voci Non ci deve essere Però solo quello Anche le radio Dovrebbero un po' Ascoltare Non solo quello Che arriva dalla televisione Ma anche cose Che arriva dal sacrificio Quindi Da suonare nei club E' Disastro Visto che hai citato Una grandissima Il nostro sacro Della musica Come Whitney Houston C'è un cantante Un cantatore Un musicista A cui ti sei Mai ispirato Hai preso qualcosa Hai rubato Qualcosa Tra virgolette Nel senso buono L'ispirazione C'è sempre Soprattutto C'è pure La musica americana In realtà In generale Da quando Faccio musica Che mi affascina Il mondo Dell'unione Tra show E comunque Musica E musica elettronica A partire da Michael Jackson Arrivare a Madonna Arrivare anche A Breathing Spears Tutto quello che è show Quello che è colorato Mi affascina molto Mi affascina molto Mi piacciono molto di più Le cose colorate Le cose suggestive L'impatto Piuttosto che solo La chitarola Progetti futuri Progetti futuri Qualcosa che Devora nascere Hai qualcosa In testa Che possiamo Beh sì Ormai L'album finito Che uscirà Il settembre Quello nuovo Come si chiama? Ancora non lo voglio dire Ancora non lo voglio dire Esatto E anche un Tra l'altro Un sondaggio Sul sito internet O comunque In delineare Ricordiamo Lo sito internet C'è facebook .com Slash Neguzzi Piuttosto che Paolo Neguzzi .com Piuttosto che Twitter Slash Neguzzi Sono tutti Tutti i social Che esiste Metterti in contatto Naturalmente Con la Città Facciamo un saluto A San Costantino Questa città Che ti ospita Tutti quelli Che ti vedranno San Costantino Con l'unore Per me Di essere qua Cercherò Cercheremo Anzi Non solo Cercherò Di dare il meglio Per tutti voi Per farvi felici Per farvi passare Una bella emozione Per l'estate 2013 Grazie Per essere stato Per l'anno A stasera Sotto Giocare in mille Con un tramo Rezazzo Imposibile Per me Chiarare Che Verte Allo stesso Vivere E A mi A mi Busso Passare Circherò La Vida che mi ha visto il tuo sole hai deciso di partire per cercare una vita per seguire e forzare che mi ha visto il sole con gli anni scontro tutti tu puoi vivere la mia stagione sulle mani, sulle mani, sulle mani vuole tutte le vostre mani siano la casa, adesso questa è la carona che siamo io te presto sulle mani sulle mani come on, mani, mani, mani prognoste descanso attività se ciJohn perona so qua la risposta guadagnosti ma la mia stagione l'unica 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 grazie Grazie! Buon notte che te puoi parlare con me Perché hai bisogno di amore Di riempire il tuo cuore in un mondo che corre Più veloce diventa di cercare il tuo senso Delle cose a cui pensi hai bisogno di me Ma che si deve ranzi a che si chi è sta un cuore sulle mano direcci Una regola, una bimba, una regola Fuori le voci! Io ci sarò, tu ci sarai, hai quello che non ho, bisogna vivere così, io mori presto di rito. E allora, facciamo una volta più grande in Italia, Sibola J! Io ci sarò, tu ci sarai, hai quello che non ho, bisogna vivere così, io mori presto di rito. Io ci sarò, tu ci sarai, hai quello che non ho, bisogna vivere così, io mori presto di rito. Grazie a tutti